Mussolini Pronto? Buonasera Duce Buonasera Che ne pensa della morte di Navalli? Salve Parlo con Sua Eccellenza e Cavalier Benito Mussolini Sì Prego Vorrei un suo commento Sulle mangane annate Di Pisa Cara Eccellenza E se ci rendi A conto Di come Questa situazione di cui Lei sta parlando in questi giorni Andi pericolosamente Un certo periodo Di più di 80 anni fa Che lei Dovrebbe conosci troppo bene Lei ha detto di fare qualche domanda Le inerenze agli eventi di questa settimana Le volevo chiedere Cosa ne pensa del caso Del nostro autarchico Carabiniere Che ha Detto a basso Il Presidente della Repubblica Ma Volevo sapere Cosa ne pensa Del caso Salis Ciccerin Un grande caffè Un gusto nero Audace Squisitamente patriarcale Per l'uomo che non si deve vergognare Di essere l'uomo E per la donna Pronti ad avanzare Bisogna ruolare E vuole essere femmina Manipolare E tutta l'Europa Può pure affondare Mussolini.shop Il grande negozio vintage degli anni 30 Con cui potrete decorare La vostra casa Con immagini piacevoli Che stimoleranno L'energia con cui affrontare La giornata Ci vuole coraggio Ci vuole coraggio Parlo con Sua Eccellenza Benito Mussolini Sì Sì Le volevo Porre questa domanda